Abbiamo sempre pensato che ognuno ha un proprio carattere. Ci sono persone che sono più aperte, altre persone che sono un po' più chiuse, introverse. Persone che esprimono facilmente il proprio sentimento, le proprie emozioni agli altri. Persone che invece sono molto più chiuse, che tendono invece a sopprimere l'espressione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. Di sicuro ci siamo già accorti che le persone che fanno fatica ad esprimersi tendono a non riuscire a crearsi dei legami sociali molto forti, di intimità, perché non esprimere i propri sentimenti è contrario allo stabilire una fiducia a creare un rapporto profondo con gli altri. Ma in una recente ricerca svoltasi ad Auckland, in Nuova Zelanda, i ricercatori hanno proprio stabilito che il partner che non esprime le proprie emozioni diventa un anello debole nella coppia. Intanto, se questi argomenti ti interessano, cioè la psicologia, la psicologia applicata alla vita, la crescita personale, puoi iscriverti al mio canale YouTube Fabio Mazza. Cosa significa quindi non esprimere le proprie emozioni, sopprimerle? Molte volte le persone lo fanno per tutelare le proprie relazioni. Anche all'interno di una relazione di coppia ci sono persone che ritengono ma che non portare le cose negative che vivono, le proprie emozioni negative, questo preservi il rapporto e lo renda più duraturo. In realtà, questa ricerca svolta su 437 coppie di lunga data ha rivelato che più le persone all'interno reprimevano queste sensazioni, emozioni, sentimenti e più la qualità del rapporto e la soddisfazione si abbassavano. Verrebbe quindi da pensare che se una persona vuole veramente che il proprio rapporto sia duraturo e che ci sia la capacità di risolvere i conflitti nel minor tempo possibile, con il minor danno possibile, riuscire a dire ciò che si prova all'altra persona è un aspetto fondamentale. Tra l'altro, non è un qualcosa che è gratuito trattenere le proprie emozioni perché noi siamo fatti per esprimerle, quindi ha bisogno di uno sforzo mentale molto elevato e questo sforzo mentale che si compie per trattenere ciò che proviamo in realtà si riflette poi nell'incapacità di trovare soluzioni, ad esempio, dei conflitti che si generano all'interno della coppia. Oltre a questo, generalmente, la persona che si ha di fronte non riesce a percepire l'onestà nella comunicazione di colui che si trattiene. Farà molte ipotesi, inizierà a pensare tante soluzioni o a indagare ciò che in realtà questa persona sta provando, ma non riuscirà mai ad averne la certezza o comunque non riuscirà mai ad avere un rapporto fluido. E questo va ad incidere anche sulla sensazione di condivisione, tanto che è stato stabilito che dove all'interno della coppia esiste una persona con una forte tendenza a sopprimere le proprie emozioni e sentimenti è un alto predittore di un'incapacità a risolvere i conflitti all'interno della stessa. Potremmo quindi dire che se sono io la persona che fa difficoltà ad esprimersi, a condividere con il proprio partner, la propria partner, tutto ciò che provo, posso iniziare a pensare di lavorare su questi aspetti perché potrei veramente aiutare la coppia a migliorarsi, a realizzarsi maggiormente. Se invece sono io la persona che ha una buona capacità comunicativa anche da un punto di vista emotivo, ma l'altro partner, l'altra partner non è in grado di fare la stessa cosa, io credo che posso aiutarla cercando di avere un atteggiamento di non giudizio nei suoi confronti, darmi più tempo per l'ascolto, creare delle situazioni, usare verbi che stimolino l'introspizione, ad esempio il verbo sentire, provare, fare una domanda, ad esempio, come ti senti quando io faccio questo, cosa senti in questo momento, cosa stai provando in quello che stiamo facendo, cosa stai provando mentre io ti dico queste cose e tralasciare magari dei verbi che portano maggiormente alla razionalizzazione, tipo cosa ne pensi, come ti sembra, come te lo immagini. Allora, per concludere, sia che sia tu la persona che trattiene le emozioni e non le comunica sia che sia il tuo partner o la tua partner, iniziare a riconoscere uno squilibrio nella vostra espressività emotiva è un primo passo per trovare all'interno della propria coppia maggiore comprensione e realizzazione. Se questo video ti è piaciuto, puoi condividerlo con i tuoi amici e se hai degli spunti, delle riflessioni che vuoi condividere, le puoi scrivere qua sotto nei commenti.